Ciao a tutti, benvenuti al recap solito della Serie B, 24esima giornata che ci ha detto come sempre che fino a che non fischia l'arbitro le partite non finiscono e questa è una Serie B veramente pasta e andiamo a vedere cosa è successo dalle vittorie importanti, dalle sconfitte, dai pareggi, tutto quanto, classifica, risultati, tutto quello che c'è da dire in questo video appunto come sempre vi invito a iscrivervi al campanellino, mettete un piacere, commentate, se vi piace il calcio questo è un canale che parla di Serie A, Serie B, Coppa Europea, Nazionale, Coppa del Mercato eccetera eccetera quindi siete benvenuti, è tutto gratis, l'iscrizione, attivate la campanellina, mettete un mi piace, condividere, commentare e insomma chi più ne ha più ne mette se siete nuovi presentatevi che ho sempre piacere di conoscervi tutti quanti e andiamo appunto, andiamo con i risultati il Como-Brescia 1-0, il Como alla porta a casa di Cortomuso, il derby Lombardo, sto dicendo il migliano, il derby Lombardo, veramente importante questa vittoria per il Como il Venezia vince 3-0 contro il Sud Tirola, Bolzano, ottima risposta appunto del Venezia che vince questa settimana farò il video molto più corto perché mi avete sguidato che sono troppo lunghi quindi cercheremo di analizzare solo la classifica Modena-Cosenza 1-1, un pareggio che non scontenta nessuno, fa anche rima e quindi bene così, tante espulsioni questa giornata perché su Tirola in 10, Cosenza, Cremonese, Sampdoria, Ascoli, insomma tante espulsioni Ferralpi solo a Palermo 1-2, il Palermo vince appunto e convince in un campo non facile e contro una formazione in forma come la Ferralpi solo a 2-1, importantissimo successo anche questo per il Rosanero la Cremonese si deve fermare al cospetto di un'ottima reggiana, un 1-1 importante soprattutto per gli uomini di Nesta la Cremonese ferma la sua carrellata di vittoria e risultati, no risultati utili no perché comunque è risultato utile anche questo ma si deve fermare, il Parma vince col Cittadella, Cittadella sempre più in crisi, un Parma convincente che vince 2-1 Pisa-Sandoria 2-0, cosa devo dirvi? Devo dirvi che la Sandoria purtroppo non riesce a fare tre risultati buoni cioè ne fa una, poi perde, poi vince, poi perde ma dopo andiamo a vedere appunto la classifica buona e importante vittoria per Aquilani soprattutto per salvare la panchina il Catanzaro se la vede bruttissima, veramente brutta contro un ottimo, ottimo Ascoli ma alla fine il Catanzaro la spunta 3-2 proprio in estremis come proprio nel film horror più horror col gol di Antonini, lui che appunto non è l'esordio perché ha già giocato però insomma da nuovo acquisto appunto risolve la partita la chiude poi Iemmello appunto all'ottantasesimo col 3-2 definitivo Bari-Lecco 3-1, si vede già la mano di Iachini, un ottimo ottimo Bari Iachini veramente può risolvere la squadra pugliese e riportarla in zona playoff io ne sono convinto, staremo a vedere Ternana-Spezia 1-1, un match che sembrava non doversi sbloccare dallo 0-0 poi tutto in 6 minuti con il gol della Ternana all'ottantanovesimo che sembra portare i rossoverdi al trionfo poi arriva il pareggio appunto al novantacinquesimo di Di Serio che porta tutto in parità andiamo a vedere questa classifica che ci dice cosa ci dice questa classifica? che Lecco chiude ultimo con 5 sconfitte nelle ultime 5 è un Lecco in crisi nera che deve cambiare pare abbia già cambiato insomma l'allenatore stiamo a vedere nel momento in cui registro ancora non ho la certezza però è una cosa quasi sicura ternesimo cambio dell'allenatore per il Lecco non so se sia quello che serve per salvare da una retrocessione in questo momento probabile mi sento di dirlo perché comunque sono 7 punti da uscire dalla zona playoff non sono pochi Feralpi Salò 21 punti Feralpi che ferma la sua avanzata buona di tre risultati buoni consecutivi arriva questa sconfitta contro il Palermo una sconfitta che ci sta ragazzi perché comunque sia il Palermo è una signora squadra poi dopo il mercato ancora di più però insomma è una Feralpi che è ancora lì se la può ancora giocare e comunque sia non è che ha preso una scoppolata è ovvio che il gol della bandiera arriva al novantesimo passato però insomma buona buona comunque la prova della Feralpi al cospetto di un grande Palermo Spezia che in Estremis la rischiava di perdere in Estremis la recupera un pareggio che muove un pochino la classifica tanto meno non è perso con la Ternana che comunque la devi inseguire non è comunque una cosa cattiva ecco se avessi perso era peggio perché la Ternana si staccava invece così comunque sono tutte lì perché sono a 22 punti sia lo Spezia che l'Ascoli e appunto la Ternana sempre meglio che perdere mi sento di dire quindi lo Spezia fa un piccolo passettino avanti terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di D'Angelo Ascoli che perde questa partita in un modo assurdo non me ne vogliono gli amici di Catanzaro però è un Ascoli che avrebbe probabilmente meritato quanto meno il pareggio poi si addormenta agli ultimi 5-10 minuti e perde perde malamente una buona partita aveva giocato bene contro un buon Catanzaro appunto che non molla mai e la recupera sul finale Ternana che appunto come lo Spezia stesso discorso al contrario perché stava rischiando di vincerla poi si fa rimontare al 96esimo un punto che sa un po' di beffa per la Ternana che assaporava già la vittoria Sampdoria una sconfitta che fa male perché comunque sì è vero la Ternana dista 5 punti i play-out sono ancora lontani però i play-off adesso ne distano 6 è vero tutto è possibile però è una Sampdoria che ha bisogno di una sterzata perché non la vedo bene questa Sampdoria ragazzi oggi ho visto un meme di una pagina della Samp che diceva la noia a vedere le partite della Samp la noia un po' parafrasando la canzone che ha vinto Sanremo ecco una Sampdoria che ha bisogno di qualcos'altro e si deve assolutamente svegliare io continuo a dire che Pirlo secondo me non è la persona giusta al posto giusto poi staremo a vedere quello che succederà su Tirol perde malamente perché perdere 3-0 in casa è sempre una sconfitta tosta è vero perdi contro il Venezia però insomma è un sul Tirol che deve leccarsi un po' le ferite 27 punti anche per il sul Tirol appunto una classifica che per ora non preoccupa ma attenzione perché appena là di dietro iniziano a vincere perché sto giro non ha vinto nessuno quindi ti sei salvato per il rotto della cuffia staremo a vedere Cosenza pareggio veramente utile quarto risultato utile consecutivo per il Cosenza un pareggio veramente buono in quel di Modena non è facile vincere la Modena non è facile neanche uscire con un punto quindi bravo il Cosenza che appunto si porta a casa un punticino d'oro 29 punti per il Cosenza tredicesima posizione classifica per ora tranquilla e giusta Bari che arriva a 30 punti a 30 punti c'è un bel gruppetto perché c'è appunto il Bari la Reggiana il Pisa un Bari che con il nuovo mister secondo me davvero può puntare alla grande ai playoff staremo a vedere staremo a vedere auguro ogni bene a tutte le piazze lo sapete però ecco sono contento per il mister Iachini che è un mister che a me piace che sia tornato appunto in una grande piazza staremo a vedere cosa farà vittoria appunto bella convincente importante per gli uomini di Iachini Iachini che urla come un matto già alla prima partita con la sua nuova squadra Reggiana quinto risultato utile consecutivo nelle ultime 5 è vero fa tanti pareggi però è una Reggiana che ragazzi vi ricordo che è una neopromossa quindi è una Reggiana che a 30 punti sta facendo un signor campionato e questa questa non sconfitta in quel di Cremona perché comunque la cremonese era on fire vale vale come tre punti complimenti alla Reggiana e Anesta Pisa decima posizione vittoria importantissima contro la Samp la lancia a soli tre punti dai playoff come appunto la Reggiana nel Bari veramente importante questa vittoria per gli uomini di Aquilani panchina che ogni tanto mormora ma io vi ricordo che nelle ultime 5 ne ha persa una sola quindi Aquilani sta facendo il suo è anche troppo secondo me poi è vero il Pisa ha una buona squadra però io ripeto criticare Aquilani non ho ancora capito il perché Brescia non opposto perde malamente no malamente no però perde contro il Como una sconfitta che ci può anche stare ragazzi perché il Brescia al nono posto all'inizio campionato non lo diceva nessuno quindi è un Brescia che è ancora lì ha un punto dai playoff che se la gioca ottavo posto per il Modena terzo risultato utile consecutivo prima la vittoria con il Parma poi il pareggio con la Sampdoria e la Genova questo pareggio contro il Cosenza che comunque è sempre un avversario abbastanza ostico seppur lo affrontavi in casa comunque è un buon punto che ti lascia comunque guadagnare un punto appunto sul Brescia e arrivare anche vicino al Cittadella che perde la sua quarta partita consecutiva nelle ultime 5 in Cittadella in crisi nera in ascesa al contrario però in discesa 36 punti settima posizione appunto per il Cittadella sesto posto per un Catanzaro che vince in Estremis ma il Catanzaro di Vivarini ragazzi non muore mai quando pensi che è finita e il Catanzaro arriva e ti purga vittoria tre punti importantissimi dopo due pareggi arriva questa vittoria a questi tre punti che consolidano il Catanzaro in zona playoff abbastanza tranquillo staremo a vedere da qui alla fine del campionato Palermo quarto risultato utile consecutivo tre vittorie nelle ultime quattro è un Palermo rinato sicuramente dal mercato con un Ranocchia che è fuori di testa ragazzi io ve lo dico questo è di un'altra categoria ve l'ho detto questo è di un'altra categoria e infatti si vede complimenti al Palermo per aver scovato Ranocchia esserselo portato a casa e quindi 42 punti quinta posizione un Palermo rilanciatissimo verso i quartieri alti Venezia trova una vittoria importante Venezia ha un po' questa cosa qui vince perde vince perde vince perde e quindi trova la vittoria dopo la sconfitta contro il Parma rocambolesca per come è arrivata appunto di domenica scorsa è un Venezia che è un solo punto dalla seconda posizione in classifica e quindi in Venezia c'è come il Palermo come tante altre lì è veramente bagarre e lo sarà fino alla fine ottima vittoria e continuità per il Como che vince un derby Lombardo mai facile contro il Brescia ancora strefessa ragazzi sto strefessa è un altro che dal mercato io ve l'ho detto strefessa la nocchia sono due non da serie B e si è visto ragazzi si è visto è come si è visto 45 punti seconda posizione rosicchia due punti alla Cremonese veramente importante questo successo sia per il Como che per il Venezia che per il Palermo che per il Catanzaro per rosicchiare punti alla Cremonese che si ferma appunto sul pari dopo una serie di risultati di vittorie consecutive appunto si fermano gli uomini di stroppa contro una buona reggiana un 1-1 casalingo che comunque sia sono ancora lì al secondo posto quindi l'importante è comunque non avere perso se la lotteranno questa è fino alla fine ragazzi io sono convinto dal Palermo alla Cremonese tutte possono arrivare seconde Parma vittoria importante dopo quella col Venezia vince questa col Cittadella con solida ancora di più il primo posto 51 punti più 6 sulla seconda solo 3 sconfitte 45 gol fatti 23 subiti non ho più parole sul Parma cosa vi devo dire sul Parma vedremo la prossima col Pisa cosa farà complimenti veramente agli uomini di Pecchia che sono sempre più lanciati per la serie A ragazzi io vi saluto vi chiedo scusa se stavolta non ho fatto troppo dettaglio sulle partite ma mi avete detto di essere più veloce e stavolta sono stato il più veloce che potevo perché vi lamentate che i video durano troppo e quindi stavolta ve l'ho fatta così alla vecchia maniera fatemi sapere come preferite i video recap di serie B vi abbraccio torno a letto perché ho avuto la febbre fino a ieri quindi bisogna che mi vado un po' a riposare che domani torno a lavorare vi invito a iscrivervi a te la campanella mettete un piaccio commentare ditemi la vostra su questa giornata di serie B su questa classifica su tutto quello che volete vi aspetto se siete nuovi iscrivetevi al canale scusatemi ditemi nei commenti chi siete che ho piacere di conoscervi tutti quanti ciao ragazzi alla prossima casino totale alla fine vedete io sono ancora in stato confusionale vi abbraccio ciao